Di solito quando l'assessore va al tavolo di minoreggio a Roma ritorna sempre con belle notizie, con titoli roboanti che poi magari non rispondono alla realtà. Questa volta non solo non è andato ma non ha fatto nessun comunicato e allora abbiamo cominciato a richiedere i documenti e non Mauro Febbo, non le opposizioni, ma la KPMG, cioè la società incaricata di accompagnare la regione Abruzzo come consulente, quindi advisor sui tavoli ministeriali, ha una relazione che porta il buco della sanità, cioè la perdita proiettata dal terzo trimestre a fine anno a oltre 52 milioni di euro rispetto ad una perdita programmata e su cui il tavolo di monitoraggio già aveva cominciato a chiedere chiarimenti e interventi di soli 23 milioni di euro. Ma non è solo questo il problema, il problema è che insieme a questa perdita di oltre 52 milioni di euro c'è uno sforamento dei tetti della spesa programmata per quanto riguarda la spesa farmaceutica di oltre 38 milioni, spesa farmaceutica che credo bisogna attenzionare perché non solo vengono richiesti ai pazienti, ai malati che si portino i medicini da casa, ma questa volta addirittura agli oncologi vengono rinviati gli interventi di una gravità assoluta questa. A questo va aggiunto che l'Alz di Chiedi negli ultimi tre anni chiudeva il bilancio in perdita, ma la perdita veniva mitigata dalla iscrizione in bilancio di sopravvenienze attive, cioè di somme che l'Alz richiedeva alla curatela fallimentare ex Villapini. Cosa succede? Succede adesso che il giudice istruttore, i suoi tecnici, il CTU, richiedono il pagamento a favore della curatela di 42 milioni e quindi siamo arrivati e abbiamo superato i famosi 100 milioni. Quindi non si danno prestazioni ai cittadini, non si danno servizi ai cittadini, però poi scopriamo che l'Alz di Pescara il 31 luglio fa una delibera come capofila delle quattro Alz per armonizzare i bilanci delle Alz e spende 12 milioni di euro. Io credo che su questo c'è da riflettere e come c'è da riflettere su un altro dato, i pagamenti dei fornitori delle prestazioni non hanno il rispetto delle norme europee. Anche su questo il tavolo praticamente avrà sicuramente scritto qualcosa in una verbale che comunque oggi è tuttora segretato. Grazie a tutti.